E... azione! Legge che merda! Ma pensiamo di interessarsi così a Afghanistan? Ma guarda Afghanistan, guarda le pagine locali. Guarda. Missione di pace. Ma ti pare che la pace la fai con i soldati? Sai come si chiamano questi? Ipocriti! Giorgio, ti presento il generale Manon Cristo. Piacere a cantare. Va bene, che l'hai bella. Grazie. Mi credo. Va bene. Grazie. Top! Buona! L'unica cosa è il senso che ti piace E Azione A uno così un mese di tempo